Peppino Ciresa appena ricevuto nei giorni scorsi da Regione Lombardia un premio come uno dei 70 negozi storici della Regione. Come si sente a ricevere questa onorificenza e qual è la storia di questa attività di famiglia? Direi proprio una grande soddisfazione per noi per me per mio fratello che è il mio collaboratore che è comunque il mio socio con cui abbiamo portato avanti questa attività ormai da 50 anni però una grande soddisfazione anche per chi ci ha preceduto per i miei genitori che erano venuti negli anni 50 dalla Valsassina a mettere in campo questa attività a Lecco per i miei nonni che avevano portato avanti questa attività in Valsassina e anche per i miei bisnonni che l'hanno iniziata, l'hanno iniziata alla fine del secolo 800 e quindi fa piacere, dobbiamo dire un grazie grande anche a loro perché se siamo arrivati ad essere così longevi perché sono partiti loro insomma.